piccolo robotino ci aspettiamo l'arrivo di un ciclone dal nord un freddo gelido sta arrivando in città vestitevi pesante per non ammalarvi dobbiamo comprare sciarpa, guanti e sistemare i riscaldamenti i riscaldamenti, giusto! a cosa stavi pensando? a causa del sotterfugio del dottor Male e i suoi tentativi di liberare i criminali il maggiore mi ha chiesto di rafforzare il sistema di sicurezza della prigione credi che se mettessero i riscaldamenti nelle celle loro non scapperebbero? non proprio, andiamo, ti faccio vedere sicuramente sta pianificando qualcosa bisogna organizzare la fuga del boss prima che migliorino il sistema di sicurezza sono pronta allora iniziamo funziona! grandioso! andiamo! cos'è successo? ho deciso di installare dei sensori termici scansioneranno la stanza e mostreranno sullo schermo le radiazioni termiche così vedrete i movimenti di tutti gli oggetti viventi nell'edificio nessuno uscirà senza essere notato la prigione della città l'area speciale per i criminali pericolosi buona fortuna perchè dovrei avere fortuna se ho un piano? ecco qua fatto wow fantastico che cos'è questa? forse il sensore non funziona oh è un fantasma credo che abbiamo ospiti inattesi oh no fermati fermati circondatelo chiudete le porte è fatta arrenditi adesso fermati firma firma veloce È incredibilmente facile Per essere una ragazza Un uomo non può aprire queste porte Bene, tutto coincide Lei non emana calore È un vampiro Non penso Forse un robot Grazie per aver guardato il nostro cartone, bimbi Per favore, scegli cosa puoi vedere ora Abbiamo molti, molti cartoni interessanti Grazie a tutti